Ma sai come si fa? E' facile, vieni, ti mostra Questa prosta leva è il vapore Questa più piccola invece è il freddo E... quelli sono i manometri E quella corda è il fischio Il fischio? Puoi provare? Era da una vita che lo volevo fare Non si può camminare! Oddio! 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 Cosa? Ferma il credo! Ferma il credo! Ferma il credo! Oddio! Oddio! Quale di questi è il freno? Dice che il freno è quello Chi? Il macchinista Il macchinista? Si! E questo rosso che sembra dentro un freno? No no, dice che il freno è quello Sei sicura? Sei sicura? Chi è il freno? Chi è qui il freno? Non ci può essere Natale Se il Polar Express non arriva in orario È possibile che sia io l'unico che lo capisce? Tu! Dovevo saperlo Giovanotto, hai stabilito che questo treno non raggiungerà mai il Polo Nord? Ma guardi Attraversamento di Caribù Questa mandria sarà di almeno centomila animali Forse anche un milione Ci vorranno ore prima che si levino dalle rotaglie Una bella gatta da parare Questo è un serio contrattempo Seccatura Grattura Un impiccio Un pasticcio Portavacca A proposito di vacca Siamo... Un impiccio Problema risolto Sempre avanti, lento! Grazie per la visione!